Benvenuti, occhio ai giornali come sempre tutte le mattine dal lunedì al sabato in diretta alle 7.30 per riguardare i giornali, il Carlino, il Corriere, il Messaggero, tra poco lo faremo subito però il santo di oggi. Oggi è Sant'Angelo, Martire, il sole è sorto alle 5.53 e tramonterà alle 20.16. Guardiamo il tempo, cominciamo dalla fotografia delle 7.30, ieri c'era la nebbia, oggi insomma così così ce n'è un po' di meno ma comunque è un'altra giornata tipicamente invernale piuttosto che primaverile, poi mette anche il cattivo umore questa nebbia un po' così. Vabbè comunque 14.30 alle 7.30 del mattino mentre le previsioni per la giornata di oggi della protezione civile delle Marche indicano un cielo parzialmente nuvoloso per nuvole stratificate con addensamenti più consistenti al centro-sud. Dal tardo pomeriggio non si escludono brevi ed occasionali piovaschi più probabili nel settore centro-meridionale della regione, temperature in lieve e aumento. Per domani, giovedì 7 maggio, cielo sereno poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi, temperature in diminuzione in particolare nei valori massimi. I venti sono dei quadranti settentrionali di brezza teso moderati. Per la giornata di venerdì 8 maggio avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento. La situazione è in graduale peggioramento con precipitazioni previste per la giornata di domenica. Cominciamo dai giornali, allora subito la notizia che ha in esclusiva il resto del Carlino che riguarda il colpo grosso alla Fitist Security, che è una società che si occupa di una sicurezza che si occupa, che opera nel settore della sicurezza, soprattutto, ma non solo trasporto valore e contanti. Rubati 400 mila euro dentro il cavo, il furto risale ad alcune settimane fa, i soldi sono spariti, indagini difficili. Partono subito queste due indagini, una interna all'azienda, dei vertici della ditta, una invece delle forze dell'ordine, cui è stata inoltrata la denuncia per sparizione. All'interno della stanza blindata c'era tutto il cash che i vari clienti affidano alla ditta, con sede in via Montenevoso, nella zona di Tombaccia. Una sparizione, dicevamo, un po' anomala, perché comunque il cavo è sorvegliato 24 ore su 24. E 400 mila euro è una parte dei contanti, perché nella stanza blindata pare che ce n'erano molti di più. La pagina di Fano, invece, del resto del Carlino. Risultati buoni, dunque l'ecotassa viene dimezzata. Superata la soglia del 65%, fissata dalla legge, stiamo parlando della raccolta dei rifiuti, la raccolta differenziata, il risultato permetterà un risparmio di 200 mila euro rispetto al 2014. Il prossimo obiettivo di Aset è quello di ridurre drasticamente la produzione dei rifiuti pro capite. Sotto, invece, sport e turismo, campionato studentesco, arrivano 1300 regbisti con, ovviamente al seguito, le loro famiglie. A Fano, questo campionato studentesco di rugby del Centro Italia, si terrà il 15 e il 16 di maggio. Il racconto, il racconto dei due alpinisti fanesi rientrati dal Nepal nei giorni scorsi, la morte negli occhi, abbiamo visto crollare il tetto del mondo. È una notizia che prende due pagine del Carlino di Fano, con la fotografia di Gianluca Cantiani a sinistra, con Pietro Marcucci di 51 anni. Dunque, Gianluca Cantiani ne ha 51, Pietro Marcucci 49, Pietro Marcucci è quello a destra, erano in Nepal per tentare di scalare l'Everest, mentre a destra la casa albergo dove avrebbero dovuto pernottare. L'hanno saputo del terribile terrevoto 24 ore dopo, ora sono rientrati a Fano e raccontano un po' la loro esperienza. Dicono, non abbiamo avuto subito la percezione della rovina che si è abbattuta su di noi. Poi, per quanto riguarda l'imbarco, il ritorno in Italia, abbiamo chiamato la Farnesina, ci hanno detto che se volevamo e se riuscivamo ad essere a Kathmandu, ci saremmo imbarcati subito per l'Italia. Nell'altra pagina, invece, c'è, oltre alla notizia del Nepal, anche la cronaca. In quattro mesi, 18 colpi, preso anche il complice, insieme a Trotta è finito dentro un 21enne, Tommaso Tutino, 21 anni, residente a Fossombrone, sotto Filippo Trotta, 33 anni, infanese, entrambi nel carcere di Villa Fastigi, sotto legge, potrete leggere l'articolo che li riguarda. Poi, invece, sulla pagina 5 del resto del Carlino, sono nato il 16 febbraio, ero un bimbo bellissimo, così a nove anni Vale, cioè Valentino Rossi, il campione del mondo di moto, racconta se stesso in un tema. La racconta Franco Bertini, nella pagina di questa mattina, Franco Barchini, racconta il ragazzo di Tavuglia che è diventato il campionissimo. La storia della nascita e del battesimo nei ricordi di mia mamma. Il Carlino si occupa anche della provocazione che c'è stata ieri davanti alla sede della cooperativa Labyrintho, che si occupa dell'accoglienza dei profughi. Davanti alla sede è stata messa una finta bara. Casa Pound ne costruisce una di cartone contro le politiche di accoglienza. alla risposta della cooperativa, dice noi non diamo ascolto a chi è l'emosina visibilità con bassi istinti. Il labirinto, dicono, in labirinto, dentro questa associazione, dentro questa cooperativa, il fatturato non si traduce in lucro, ma in lavoro, in servizi. E qui vedete la fotografia della cassa da morto, che è stata costruita e che è stata messa davanti alla sede. Cambiamo giornale, andiamo adesso sulla Corriere Adriatico. Un minorenno, qui c'è, su questo articolo si parla di alcuni episodi di ubriachezza che sono avvenuti nei giorni scorsi, nelle ultime ore nella nostra provincia. Ci limitiamo a segnalare, per esempio, questo minorenno ubriaco che si butta contro una vetrata. è accaduto ad una mamma a Villa Fastigi, dove il figlio minore di 17 anni, in evidente stato confusionale per il troppo alcol che aveva assunto, in pieno pomeriggio si è scraventato contro la porta a vetro della sua abitazione, finendola per spaccarla. CONFART riparte dopo il fallimento, siglato l'accordo con la SITSRL, ma pochi dipendenti torneranno al lavoro nella fotografia, ha detto lo storico presidente provinciale della CONFARTigenato, Learco Bastianelli. Ancora, dalla pagina di Urbino del Corriere Adriatico, manifesti fuori posto, Movimento 5 Stelle scopre affissioni irregolari di Carrabs e Vagnerini, appello al sindaco. Poi, da Fossombrone, giochi storici tra 12 rioni, 800 figuranti per la rievocazione del trionfo del Carnevale, tre giorni di iniziative e domenica la gara equestre della rara et bella Cursa all'Anello. Bene, e questa è una rievocazione storica del trionfo del Carnevale che si terrà a Fossombrone, una bella rievocazione alla quale anche noi ci saremo, vi faremo vedere soltanto qualche minuto in diretta, ma davvero vale la pena essere lì presenti perché è una bella rievocazione poi con 800 figuranti. Quindi, insomma, sabato e domenica due giorni di grandi, molto importanti per la città di Fossombrone. Andiamo adesso sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Fano Seri, il sindaco di Fano Seri, sì ad un dragaggio urgente. Il sindaco annuncia un intervento a maggio per consentire la navigabilità delle darsene. I fanghi andranno in discarica con una spesa ritenuta irrisoria. L'escavazione è massiccia invece dopo l'estate per Fano 5 Stelle, però è un provvedimento tardivo. Scoperto e arrestato un complice, il complice del ladro seriale, il cerchio delle indagini dei carabinieri su diverse razzie in città attribuite a Trotta. Si chiude su un giovane di Fossombrone. Minardi, gaff elettorale. Firmo la carta di avviso pubblico, ma così non si potrebbe candidare. Attenzione alle promesse elettorali, la prova che gli impegni assunti in campagna elettorale possono risultare gratuiti e opportunistici, nella migliore delle ipotesi, frutto di mancato approfondimento, la fornisce Renato Claudio Minardi. Il candidato regionale nella lista provinciale del PD risponde con prontezza alle richieste della formazione civica. A noi giovani per una candidatura trasparente si impegna a firmare la carta di avviso pubblico. Ma tale codice etico, tra le altre norme, ne prevede una che appare incompatibile con la sua candidatura. Timori per il centro di terapia fisica, l'ASUR, dice Non chiude. Prima l'Italia appaventa rischi per la struttura di San Lazzaro, negati dal dirigente del servizio. Incertezza per l'operatore che sarà sostituito. Ok, andiamo sull'altra pagina del quotidiano anconetano. Ex mattatoio, sempre affanno, sporcizia e degrado, abbattuto il cancello, diventato un rifugio per senza tetto. Paolini dice che bisogna vendere la struttura. Montagne di abiti accatastati, rifiuti e scritte sui muri, condizioni igieniche molto precarie. All'interno dell'area blizze e sgomberi, nemmeno la bonifica è stata sufficiente. Poi ancora da Orciano, nuova stagione per il centro sportivo polivalente, sarà strutturato grazie a 500 mila euro, ottenuti dal programma 6 mila campanili. Da Senigallia, Mangialardi, il sindaco, continuo il buon governo. Il sindaco presenta la coalizione, lancia la sfida, lettera alle famiglie ed una linea telefonica. Apriamo adesso velocemente il messaggero di Pesero, profughi, la cooperativa sotto tiro. Il labirinto trova davanti alla propria sede una barra di cartone a grandezza naturale. Centropagina, flash mob in piazza contro il decreto, anche a Pesero, mobilizzazione di studenti e di insegnanti. Poi sbaglia a casa, ubriaco nudo dalla vicina e un ragazzo di 17 anni, alza il gomito e manda la mamma al pronto soccorso. Lavoro, c'è bisogno di un atto straordinario. L'intervista questa mattina al candidato Altre Marche di Sinistra Unita, Edoardo. Mentrasti. Ancora, musei da Pesero, musei oliveriani, la fondazione può fare ben poco. L'ex direttore dell'ente Di Bella lancia una idea diversa. Potrebbe farsene carico lo Stato, come avviene in altre realtà. E ancora, no alla buona scuola dei precari. Guardate le fotografie scattate ieri in Piazza del Popolo a Pesero, con tanti studenti e con loro ovviamente anche gli insegnanti. Poi ancora sotto sulla Fano-Urbino, la ferrovia dismessa. Fano-Urbino spacca, chiede di non dismettere la tratta. Evidentemente siamo in campagna elettorale, quindi ormai ci si aggrappa a tutto. E vola la differenziata e l'ecotassa si dimezza. Rifiuti, buoni risultati nella raccolta. Faranno risparmiare 200 mila euro. Il traguardo certificato dalla regione migliore rispetto a quelli di Pesero e di Senigallia. Poi razzie di slot machine nei locali. Scatta un secondo arresto. L'abbiamo visto poco fa. Giovani in cerca di lavoro. Nasce lo sportello d'Edalo. Progetto innovativo inaugurato ieri alla Mediateca Montanari. È tutto per la resegna stampa. Occhio ai giornali torna domani mattina. Stasera invece Occhio alla Notizia. Vi ricordo che per essere aggiornati costantemente basta avere un tablet. C'è un'applicazione su Google Play che è appunto quella di Occhio alla Notizia. Oppure il nostro sito internet occhiolanotizia.it. Grazie per averci seguito. Arrivederci.